Nonostante i controlli delle forze dell'ordine si siano intensificati nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni sono stati consumati furte a canicattì in abitazioni disabitate e utilizzate dai proprietari soltanto in alcuni periodi dell'anno. La polizia, in seguito a sopralloghi nelle abitazioni, ha avviato tempestivamente le indagini a carico di ignoti. Nel primo episodio, i ladri avrebbero scassinato il portone d'ingresso in ferro di una casa di campagna di proprietà di un 69enne e avrebbero portato via una moto da cross. E ancora, incontrata IMSU, i malviventi, dopo aver rotto una finestra, si sarebbero intrufolati nella villetta di un 48enne ed avrebbero rubato una cucina a legna, un frigorifero, due enfisti in alluminio, alcune finestre persiane. Infine, dei ladri avrebbero rotto il cancello con l'utilizzo di un flex e dopo essere penetrati in una casa rurale di un 52enne si sarebbero impossessati di tre panche in ferro, cinque lampioni, due ruote di un carretto siciliano. Poi sarebbero entrati nell'abitazione e dopo aver messo tutto a soquadro avrebbero sottratto un ventilatore a soffio, un frigorifero, delle menzioni in legno, sette reti da letto, una scaffallatura metallica, una lavatrice e infine vari attrezzi da lavoro.